In aumento i positivi in Calabria nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna si registrano 54 contagi a fronte di 2063 tamponi eseguiti. Ieri 7 luglio, lo ricordiamo, erano invece 38. C'è anche un decesso avvenuto nella provincia di Reggio Calabria che porta a 1.233 dall'inizio della pandemia. In calo i ricoverati nei reparti di cura, stabili invece le terapie intensive. Sono 189 i guariti, mentre 134 in meno gli isolati a domicilio. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti in tutta la regione. Catanzaro 45, 9 il reparto, 1 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare. Cosenza 2034, 25 il reparto, 2 in terapia intensiva, 2007 in isolamento domiciliare. Crotone 47, 3 il reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare. Andiamo a Reggio Calabria, 151, 9 il reparto, 1 in terapia intensiva, 141 in isolamento domiciliare. Vibo Valencia 20, 5 il reparto, 0 in terapia intensiva, 15 in isolamento domiciliare. L'Aspi di Reggio Calabria, inoltre, comunica che i positivi di oggi sono due, di cui uno migrante.